Dal libro del profeta Ezechiele, in quei giorni uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava, mi disse, figlio dell'uomo, io ti mando i figli di Israele a una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me, essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi, quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito, tu dirai loro, dice il Signore Dio, ascoltilo o non ascoltilo, dal momento che sono una genia di ribelli sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Parola di Dio. I nostri occhi sono rivolti al Signore. A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli, ecco come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni. I nostri occhi sono rivolti al Signore. Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore è il nostro Dio finché abbia pietà di noi. I nostri occhi sono rivolti al Signore. Pietà di noi, fietà di noi, fietà di noi, siamo già troppo sazi di disprezzo, troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi. I nostri occhi sono rivolti al Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo, per tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Ed Egli mi ha detto, ti basta la mia grazia, la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte. Parola di Dio Veniamo grazie a Dio